Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nella miniserie del dungeon delle cinque stanze siamo arrivati finalmente a parlare della terza stanza, quella che senza un'adeguata preparazione è quella in assoluto più difficile da usare. Questo è il momento all'interno della quest che potrebbe rendere il tutto un'avventura memorabile che sarà ricordata o buttarla in un buco nero che servirà solo a frustrare i giocatori e a fargli passare la voglia di andare avanti. Quindi prestate attenzione perché questa settimana andiamo a parlare della stanza dell'inganno o dell'imprevisto. La stanza nell'inganno o dell'imprevisto è quella in cui le cose si complicano, la vita degli avventurieri si fa più difficile e i giocatori alzano gli occhi al cielo e allargano le braccia. È uno dei momenti migliori per essere il Master. Lo scopo di questa stanza è quello di far sudare freddo gli avventurieri e alzare la tensione per la storia che state raccontando. L'incontro in questa stanza dipende molto dal tipo di avventura che state giocando. In una quest è incentrata sul combattimento, qui dentro ci sarà probabilmente l'incontro più duro dell'intero dungeon, quello che costringerà gli avventurieri a sprecare munizioni ferite, vincantesimi, granate, quello che prosciugherà le loro risorse deperibili lasciandoli indeboliti in vista del boss finale. In una quest investigativa potrebbe essere il momento in cui gli avventurieri scoprono che la pista che stavano seguendo era falsa, che quello che pensavano essere l'assassino in realtà è innocente o persino il momento in cui qualcun altro cerca di far passare loro per i colpevoli del crimine che stanno investigando. È il momento della quest in cui si scopre che le informazioni che si consideravano certe in realtà sono sbagliate, in cui si scopre che quello che si credeva essere il nemico in realtà è un alleato e quello che si riteneva essere l'alleato in realtà è il proprio nemico. Qui gli avventurieri arrivano alla fine del dungeon convinti di poter finalmente mettere le mani sul tesoro per scoprire che il tesoro è già stato rubato anni prima, che la mappa che stavano seguendo in realtà è falsa, che il corridoio è crollato, il ponte è stato tagliato, il sentiero è stato ricoperto dalla vegetazione e che in pratica devono inaspettatamente trovare un'altra strada. Anche se non c'è un ordine preciso in cui inserire le stanze, è sempre meglio mettere questa stanza verso la fine del dungeon, in modo che per gli avventurieri oramai sia troppo tardi per tornare indietro e che abbiano già avuto molto tempo, magari varie sessioni per rimuginare sulle informazioni che già hanno, inserendo un incontro particolarmente duro nelle fasi iniziali del dungeon, gli avventurieri potrebbero semplicemente decidere di tornare indietro per curarsi ed equipaggiarsi e poi ritornare più avanti, o di lasciar perdere la missione e tornare quando avranno più livelli di classe, più esperienza, equipaggiamenti più potenti o quant'altro. Anche un impedimento ambientale come può essere un ponte crollato, se messo all'inizio potrebbe sembrare più che altro una caratteristica dell'ambiente, avrà molto più impatto se viene incontrato dopo una lunga serie di ponti tutti perfettamente sani. All'inizio dell'avventura i personaggi potrebbero anche avere più risorse e quindi quello che è verso la fine è un ostacolo molto impegnativo all'inizio potrebbe essere una banale seccatura che non gli interessa neanche. Allo stesso modo scoprire che una delle loro informazioni era errata subito all'inizio della quest non sarebbe un drammatico colpo scena ma molto più probabilmente i giocatori la interpreterebbero come una spiegazione ritardata o peggio un goffo tentativo del master di impressionare il suo pubblico. I colpi di scena funzionano quando vanno ad agire su informazioni che il party considerava già consolidate, informazioni che hanno in loro possesso già da molto tempo, possibilmente varie sessioni, vari mesi, in modo che loro abbiano avuto il tempo di rimuginarci sopra, farsi il loro percorso mentale che il colpo di scena va a ribaltare. Scoprire che un personaggio che ha incontrato dieci minuti prima in realtà è malvagio non è un colpo in scena, è semplicemente il proseguo della spiegazione di chi è il personaggio. Questa settimana la nostra squadra dell'inquisizione dovrà avere a che fare con l'inganno o l'imprevisto. dato che abbiamo ripetuto un sacco di volte che non necessariamente l'incontro deve avvenire in una stanza, questa volta l'incontro lo piazzeremo in un corridoio, letteralmente in un corridoio. Mentre gli avventurieri seguono il percorso che hanno trovato nella stanza dell'enigma dell'interpretazione verso il punto dove i tubi sono stati deviati, il master ha fatto in modo che debbano strisciare lungo un angusto condotto di ventilazione per superare più velocemente una serie di livelli del formicaio che magari richiederebbero ore se non giorni a essere attraversati normalmente. Potrebbero averlo scoperto da solo e potrebbe essere stato il predicatore a suggerigli di questo percorso. Potrebbero aver sbagliato strada essersi infilati lì mentre cercavano ad andare da un'altra parte. Come sempre il nostro esempio non è importante. Quello che è importante è che mentre stanno strisciando lungo il condotto sentiranno provenire dalle griglie del pavimento una serie di voci. Quando si fermeranno ad ascoltare, è praticamente scontato che si fermino ad ascoltare, comunque anche se decidono di proseguire il master può semplicemente dire che man mano che si avvicinano le voci diventano più forti, sentiranno un gruppo di nemici parlare tra di loro e scopriranno che sono questi nemici ad aver effettuato la deviazione. Ma non si tratta solo di sabotatori o di estremisti di qualche tipo. Sono un culto di eretici che a quanto pare ha inserito nel sistema di ventilazione della città una tossina che avrà effetti sgradevoli sugli abitanti, li farà mutare, li ammazzerà. Non è rilevante ai fini dell'esempio, si parla comunque di milioni di persone che rischiano la vita. Il compito degli avventurieri naturalmente sarà impedirlo. Questo renderà la cosa più drammatica perché da dovete riparare un guasto, la quest è diventata dovete salvare innumerevoli vite. In più, man mano che gli avventurieri striscano nel condotto, si dovranno rendere conto che si stanno addentrando nell'area del sottoformicaio controllata da questo culto eretico. Questo sarà appunto il loro inganno e il loro imprevisto. La strada che gli era stata indicata come quella più sicura in realtà si è appena rivelata essere incredibilmente pericolosa perché loro sono fondamentalmente bloccati in un cunicolo circondati da nemici e sarà anche l'imprevisto perché il loro piano di proseguiamo nel tubo e poi scendiamo quando ci fa comodo è diventata restiamo bloccati nel tubo perché se scendiamo ci potrebbero immediatamente scoprire. Dovranno rivedere il loro piano, trovare una deviazione, riuscire a uscire dal tubo in maniera stealth senza farsi vedere, dovranno fendersi dei cultisti. Non è importante, l'importante è che il loro piano che si erano preparati fin dalla stanza precedente è andato in fumo e adesso dovranno ripensare e dovranno trovare qualcosa di nuovo per proseguire nella loro quest. Per questo video invece è tutto, mi piacerebbe sapere da voi come fate a ingannare o frustrare i vostri giocatori o se avete domande, dubbi, perplessità lasciate un commento nell'area di discussione qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci rivediamo al prossimo video!